Adesso parliamo di medicina, del sistema nervoso e del dolore cronico, ma soprattutto di alcune recenti scoperte che potranno aiutare chi soffre di queste patologie collegate al dolore cronico. Con noi in studio abbiamo il professor Paolo Maria Rossini, buongiorno, neurologo dell'Istituto San Raffaele di Roma, che ci aiuterà a capire che cosa accade al nostro corpo alle prese con quelle che vengono definite le neuropatie. E in collegamento da Genova abbiamo Raffaella Tonini, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Benvenuta, lei fa parte di un gruppo di lavoro che ha vinto il premio Aspen per la collaborazione e la ricerca tra Italia e Stati Uniti, con un risultato che apre davvero delle prospettive molto molto interessanti anche sulla terapia delle neuropatie. Parliamo di una proteina sintetica che si chiama Blink2, ma prima di capire che cos'è questa proteina sintetica dobbiamo forse fare un po' il quadro, perché insomma detto così, Dottor Rossini, sembra molto complesso. Parliamo di vie di percezione del dolore a livello del sistema nervoso. Perché percepiamo il dolore? Beh, senza dolore non si vive. Il dolore è tutta la rete di tessuto nervoso che ce la fa percepire, è un sistema di difesa fantastico. Fin da bambini impariamo a non toccare oggetti troppo caldi o troppo appuntiti, a non spostare oggetti troppo pesanti, perché questi ci provocano dolore e il dolore ci dice che stanno facendo del danno. Noi abbiamo una rete, dovremmo avere un paio di immagini di sostegno, abbiamo una rete di tessuto nervoso che non è visibile, corre lungo sotto la nostra pelle, corre tutto attorno ai nostri visceri e ci avvisa istante per istante, è come se avessimo migliaia e migliaia di centraline di difesa, ci avvisa se gli impulsi che vengono dall'esterno o anche dall'interno del nostro corpo rientrano nella normalità oppure sono di allarme e quindi dobbiamo andare dal medico a fare degli esami. Però poi subentra quello che viene definito il dolore cronico, patologico, è un salto di specie, insomma. Che cosa significa invece dolore cronico? Perché si danneggia il sistema delle centraline, le quali invece di avvisare di un'aggressione cominciano loro stessi a produrre degli impulsi patologici che fanno percepire al soggetto un dolore che non esiste. Però io sento dolore perché c'è una malattia all'interno della rete di queste centraline. Sono i nostri nervi periferici che si ammalano, sono danneggiati e provocano vari tipi di dolore. Le cause sono molte e se c'è tempo ne parleremo. Allora, torniamo a Genova dalla dottoressa Tonini. Quindi quali novità porta, abbiamo visto il contesto, quali novità porta alla vostra ricerca proprio se pensiamo al sistema nervoso? Sì, buongiorno. Allora, lo studio è il frutto della collaborazione tra il Laboratorio di Biofisica dei Canali Ionici, del Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Milano e del nostro laboratorio qui in IT. Nello studio pubblicato sulla rivista Nature Methods viene sperimentata con successo l'efficacia della proteina sintetica Blink-2 che, attivata dalla luce blu mediante la tecnica dell'optogenetica, è in grado di ridurre l'eccitabilità neuronale e di alleviare il dolore neuropatico in un modello sperimentale. Ecco, professoressa, le ha parlato un attimo fa di optogenetica che ha giocato un ruolo fondamentale nella vostra ricerca. Vogliamo spiegare il ruolo della luce in questa scoperta e come agirebbe dietro a questa proteina? La tecnica dell'optogenetica è una tecnica sperimentale molto usata in ricerca biomedica che permette di intervenire sull'attività neuronale di organismi modello attraverso luce o della luce. Questa tecnica si basa sull'utilizzo di proteine, tra cui appunto Blink-2, che si attivano con un flash di luce e consente di controllare in remoto l'attività delle cellule in cui queste proteine sono espresse. Noi abbiamo qui all'IT, abbiamo dimostrato la funzione inibitoria di Blink-2 nei neuroni di una regione del cervello che produce l'eromodulatore serotonina che tutti noi conosciamo per il suo ruolo nel regolare l'umore, le emozioni e per il suo coinvolgimento nei fenomeni di ansia e depressione. Dottor Rossini, per voi che ogni giorno vi confrontate in corsia con i pazienti, con il loro dolore cronico, uno studio del genere, quali speranze e quali opportunità apre? Intanto ricordiamo che è una patologia molto frequente, perché è legata a patologie frequentissime. Pensi solo al diabete, pensi solo alla terapia, alla chemioterapia in ambito oncologico, sono tutte cause di neuropatie periferiche e di dolore neuropatico. La speranza che spero di vedere io ancora in attività è che somministrando questa proteina per via generale, attivandola con una precisione millimetrica, con questa luce che può attivarla nei punti che noi decidiamo e programmiamo, andando quindi sulle centraline malate, poter bloccare, inibire almeno in parte il passaggio di questi impulsi dolorosi. E quindi avere un sistema di intervento non invasivo, senza particolari effetti collaterali, che ci permetta di modulare almeno in parte una situazione molto fastidiosa per la qualità della vita. Dottoressa Tonini, nel salutarla si proietta un po' in avanti il professor Rossini. Allora le chiedo quali altri passaggi dovrete fare? Che cosa vi aspetta nei prossimi settimane, nei prossimi mesi? Dottoressa Tonini, mi sente? Pronto, scusate, non avevo dato via l'audio. Che cosa vi aspetta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Perché non si è sentito? Allora, questo studio sicuramente opera delle opportunità molto interessanti, come diceva il professor Rossini, e infatti su appunto le applicazioni cliniche di questa proteina Blink-2 sta lavorando attivamente il laboratorio della professoressa Moroni, Università di Milano, che appunto ne sta validando sempre di più l'utilizzo in questo contesto. Grazie, Raffaella Tonini, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia e ringraziamo anche Paolo Maria Rossini dell'Istituto San Raffaele di Roma. Grazie per essere stati con noi.